Anche se domenica avevo detto che vi avrei aggiornato io e lo sto facendo, registriamo il secondo decesso in città per un nostro cittadino purtroppo contagiato dal coronavirus. Non solo, lo sapevamo, avevamo troppi tamponi sospetti, quindi stanno aumentando i casi, siamo a 10, anche se anche i nuovi casi non si trovano in condizioni buone di salute per cui non è stato disposto nessun tipo di ricovero ospedaliero. La situazione è chiaro che sapevamo che doveva evolvere necessariamente in questa direzione, bisogna restare a casa, bisogna stare attenti, bisogna stare attenti soprattutto alle fasce più deboli, dobbiamo far comprendere loro che devono rimanere a casa, ma anche noi dobbiamo stare attenti con loro, perché è evidente che il virus è aggressivo e quindi soprattutto se dovesse colpire le fasce più deboli può portare bruttissime conseguenze. Stiamo attenti tutti, oggi è domenica, cerchiamo di evitare di passare la domenica per strada, nonostante sia una bella giornata dobbiamo rimanere in casa. Mi raccomando, noi nel pomeriggio leveremo assolutamente i controlli e soprattutto saremo pronti ad elevare sanzioni. Mi raccomando.